Dov'è? Eccolo là Devi prima andare qui A sinistra No smetti di scendere qui Ma quanti cazzo sono? Eh eh capito capito C'è un mille contanti Ma perché sta lì fermo così Odioso Ah c'è la finestrella Ma non c'è puoi guarda Perché non c'è spazio E' andato via No non è andato via Se sentia che camminavo ancora Bisogna capire è andato via Ma dove è verso dove? Di sinistra E' salito sopra però Quindi può sbucare da qualsiasi pizzo Appunto Oh ecco Ok Perfetto Via Lo vedi? Raccogli comp Ok E' perché c'era in realtà sulla mappetta No non c'era Non c'era mai No non c'era il comp C'era solo la zona in cui dove vi andavo orientati Ci abbiamo avuto un po' di culo Eccolo là C'è un posto Non c'è un posto che nascondesi Dici che non pari va? E' piccolissimo sto pezzo Ok Se arriva qui so So dolori eh No nel senso che te prende C'è poco da fa Vai 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 Torniamo Torniamo là no? E' dirizzata allora Sì 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 Due secondi prima Ok Bravo Bravo cucciolo Vai a giocare Ale Ok Sovraccarico del nucleo beta Beffetto Beffetto E' mo' E' mo' lì divina E' mo' come Come abbiamo fatto prima Esatto E poi dove vado però Poi è un problema di poi Dici prima Pensiamo all'adesso Pensiamo all'oggi Poi penseremo al domani Eh vai Ah contatto lo so Lo so lo so lo sentite L'atteria nasconde lì dentro Devo andare Uh deve andare Deve andartene Deve andartene Camminando non correndo E' anche abbastanza lancia fiamme Per poterlo magari mandarlo Uh facehugger 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 Ok Uh Dov'è qua a destra Con l'eco 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 l'ho visto Uh Ok Ah Porca puttana Arriva 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 Eh ma potessi che ce l'hai Qua Ok piano piano Si 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 C'è il salvataggio proprio avanti Si Vai piano Vai piano Aspetta Aspetta Ok Aspetta 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 Dov'è il salvataggio Ma io corro Si No 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 Oh Ah Non è possibile Non è possibile Non ci vedo Non è possibile Che non ha schiacciato il pulsante No Che l'ha schiacciato il pulsante Ma quello è stato più veloce Ma non l'ha schiacciato subito Perché sennò ce l'avrei fatta Porco due Porco Va per corso dieci metri Dieci metri Mi sono giudato da correre Va bene adesso non corre allora Ma no casca guarda No è bene giù guarda Ma pezzo de culo Vaffanculo Vattene a casa Vattene da mammetta Eh non fa Non fa Non fa Eh lo so lo so Cazzo vero Non frega cazzi Vai È tanto Abbiamo fatto 30 30 Abbiamo fatto 100 Ricordo Eh Faccio questo a correre Sovra O no I circuiti di sovrafflusso Eh Parla come magni Come sempre Ecco Perché poi dove Vada sempre a guardare la mappetta Trova solo qualcosa Qui a grapparti Eh andovina Ok una è andata Lai sta per il laido Correre può causare incidenti Ah ma l'ha visto allora Sì C'è quello No Oh ma che cazzo Ma Ma stai scherzando Ma forse l'hai colpito Mentre te stava a fare l'animazione E te prendete Eh lo vedi Ah è morto Ok 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 Vai 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 Dai Ripley Ah no non te lo fa fa Devi andare direttamente lì Di dove Eh lì Lì al centro Vedi Sopra a carico Ah una volta E vabbè Ma una volta alta Una volta beta Che cazzo però Vai ricaricami Per favore Perché su alcune armi Mi basta schiacciare una volta Su altre bisogna schiacciare Tenere premuto Non ce la posso fare Non ce la posso fare Tipi il nucleo A E poi devi fare Poi vai il nucleo B E devi rifare Ma meno mai che non corra No Che tipo No che è Che è Che è Che è Che è bordista E N Che è bordi Ah ok ho capito Sì Io non ho capito Vabbè Ma l'importante è che hai capito tu No praticamente C'erano Non so se l'hai visto Dei simboletti Con le direzioni Ogni volta che Ogni volta che appare qualcosa Devo schiacciare quella direzione Ok perfetto Ho capito Oh Perché non lo fa fa Vai Controlla 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 le missioni Scusa vai giù Sovraccarico Ma che cazzo stai a dire No Non mi devi di sta cosa Non mi devi di sta cosa Ma tutto su ogni terminale Su ogni terminale No 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 Torna indietro Torna indietro È quello della Ma che cazzo Diceva quell'altro Questo qua sinistra era Sì scusa Scusa Mi sembrava quell'altro No mi sembrava quell'altro Sì sì Ciao ciao Disattiva il rilevo Eh ok Ok Quindi mo ce sarà quell'altro Tu l'altro No Ah no No mo no Mo no perché quell'altro i due Sono stronzi No quell'altro i due Saranno per il nucleo beta Vai Dai Sopraccarica a tua madre Volè Quella laida Qua ma fa Che cazzo è Sta roba Va bene PNG vai PNG sono quelli bianchi Ah ok Però come se ne evidenzia No Tasti movimento Sì Ah cioè No tu mi stai Dica io devo prendere tutti insieme E poi invio per confermare No forse devi confermare Eh ma non posso spostarmi La linea è una sola Capito Forse devi confermarne uno solo Conferma Devi Devi confermarne uno alla volta Cazzo Se dovevi farli tutti e quattro insieme Era un problema Ma l'abbiamo fatto Sì sì Ah questo è fatto Qui è bilanciamento 60 Uno solo Uno solo Perfetto Vai Certamente non li prendi Da sti sto cazzo di cosa Porca tanti cazzo sono Che è quella roba Miscela Miscela La prenderò Dove devi andare Dove devo andare Indirizza la corrente Allora Faccio tempo Faccio tempo Non mi fermete mai Non mi fermete mai Non mi fermete mai Non scappi Non scappi Io come se non ci fossero domani Neanche io Stai in volti E' come cosa Come la mamma Che ti dice Non andare Con la ciabatta a mano E' il mattarello Non scappare Vieni qua Ti prendi Ti ammazzo Ok Avvio Quante cose Lo svuotamento Della sala di controllo E' ovviamente D'altra parte D'altra parte Va bene Gli ho driblati Tutti Gli ho driblati Tutti Vabbè Che culo L'ho driblato anche la mamma Di là Sì E' lì E' qui Dove Dove Qua dove Ah no Non è lì E' davanti Troppo giù E' qui Avvia C'è un pannello Qualcosa Una plancia di comando Qualche Gesù Qualcosa Caggia fa Caggia fa E' di sopra E' di sopra Scappa Non è di qua Non funziona Arrivano Le teste di cazzo Cori Ma sei sicuro Eh per forza Batteria scarica Eh ma siete dei figli di troia Però eh Rari 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 figli di puttana Se potete andare da qualche parte qua No C'è per forza qualcosa da attivare qui C'è per forza Che cos'è che non vediamo Vedi c'è un cablaggio Un cablaggio forse Dove Dove l'hai visto In alta Lì Qui Ok Sì Distruggiamo tutto Distruggiamo tutto Che schifo Alieno Pezzo di culo Qui non mi potete rompe i coglioni Perché io sto nella sala Eccolo il pulsante rosso Vai No Sono due Che cosa Ma perché ogni volta c'è una cosa diversa Che cos'è Purge Dovvero Ho fatto Non lo so Purge Ho fatto Che cazzo ho fatto Non lo so Non lo so Sì Si Si è spento tutto Ah no No Non si è spento tutto Sto andando proprio Poi 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 Se non meccane E mo fa un botto Mo fa un botto Incredibile Mo fa un botto Mo fa un botto Guarda Guarda Dove vanno Do Quanti Due Non ho visti io Tre Oh Quattro Cinque Quattro pinna Alla Tonte Fuocore Fuoco E mo E mo Che cazzo faccio io qua Bo Quelli ma si stuprano male Che devo fa' Non lo so Non vedete la missione Siamo morti Forse deve aspettare Basta Che cosa Devo aspettare qui Non lo so Aspettare qui che muoio Ecco Ok Mi dispiace Ma che Come Come Torna da Riccardo Torna da me Riccardo No Aspetta Ripley sta succedendo qualcosa di Stai scaricato Tu credi Devi andare al centro medico Ora Lo svuotamento del reattore Sta ripristinando i sistemi di Sebastopol Luci Navette Forse anche comunicazioni Credo sia la nostra grande occasione Uh Subito Non è un tempo Io scendo nell'area comunicazioni Ma qui È chiusa la porta Vai al centro medico Vabbè San Cristobal System Florence Provamo dai Raggiungi la torre Schimed Ma porca puttana Ma sei un pezzo di culo Ma dimmelo prima no Ma perché me lo devi dire Dovrei andare a torre Schimed Ti odio Sì Piano Ah, è vero Porca Eh Vieni, vieni, vieni No, fai, 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 fai Se puoi, se puoi evita Non mi avessi Se puoi evita Non posso evitare Però qua ce n'è uno, perché ce n'è solo uno? Eh? Perché ce n'è solo uno? Ma io... Meglio se ce n'è uno solo, scusa, eh No, è meglio, eh In front end Guarda che buscene qua Ah, no, guarda là No, aspetta, è sceso Aiuto Ma viene dritto verso di nuovo No, 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 no Arriva, cazzo, la vetta scimetti di merda Cazzo Se lancia la... Guarda, 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 guarda Vai, cucciolino Vado a prendere Corri a prenderla Corri a prenderla Che io vado a prendere la vetta Che non è arrivata ancora Dai Quanto cazzo ci metti Che mi ti fa morire per forza Gioco Perché mi ti fa morire per forza, eh? Perché? Perché non si Sto premendo Sto premendo Sto premendo Sto premendo Sto premendo Sto premendo Oh, Apollo Ehi, vabbè Che cazzo Ma si? Ah, infatti, Marlo Ma cazzo è andato Oh, grande, Marlo Forse ci ha salvato il culo No, ma sta stazionando qui vicino No, ma non fa la tracca per carità I shuttle sono per le distanze corte Ma andranno bene Ok I shuttle Trova un'ambulanza per distanze corte Ci possiamo trasferire sulla nave con l'ambulanza, quindi? No, più che altro puoi andare con l'ambulanza Puoi uscire E andare su La Nesidora Per farti poi Venire a prendere Per andare a prendere i cardo Ok La nave ormai è infestata da stronzi Quindi ogni minimo respiro fasullo Ci contatta È bello che poi è piena Cioè è piena Ogni colpo di tosse Era morte Grazie